Buongiorno a tutti, sono sempre Victor Laszlo88 e siamo in periodo di Halloween e come sapete io cerco sempre di portare contenuti che abbiano a che fare con film horror o con il lato inquietante del cinema. E poco più di un mese fa ho iniziato una rubrica che si chiama V-Crime dove vi parlo di misteri e delitti avvenuti nell'ambito del cinema, che si tratti di Hollywood o anche, perché no, di cinema nostrano. Oggi voglio raccontarvi una storia che sicuramente tanti conosceranno ma che forse qualcuno non ha mai sentito raccontare, per cui tenetevi forte perché oggi parliamo del delitto che coinvolse Phil Hartman. Sigla! Chi era Phil Hartman? Beh, sicuramente qualcuno se lo ricorda perché era uno dei comici di punta del Saturday Night Live degli anni 90, famosissima ad esempio la sua imitazione di Bill Clinton, ma non solo quella. Qualcuno però potrebbe ricordarlo perché nella versione in lingua originale dei Simpson lui prestava la voce non solo a Troy McClure ma anche all'avvocato Lionel Hutz, due personaggi che chi è vecchietto come me ricorda benissimo che a un certo punto sono misteriosamente scomparsi nel nulla. Il perché lo scopriremo tra poco ma Phil Hartman era anche comparso in qualche film anche se al cinema non ebbe mai un grandissimo successo però ad esempio io me lo ricordo per la sua interpretazione del vicino provolone che cercava di insidiare la moglie del personaggio protagonista interpretato da Arnold Schwarzenegger nel film Una promessa è una promessa. Una pellicola discutibile che però io porto nel cuore perché è stato uno dei film della mia infanzia che io associo sempre ovviamente al Natale dal momento che è un film che nel periodo natalizio viene trasmesso spesso dalle emittenti televisive. Di Phil Hartman tutti dicevano la stessa cosa ovvero che fosse un bravuomo una persona dolce gentile affabile e anche il suo aspetto lo faceva pensare occhialetti capelli pettinati gentilmente all'indietro una faccia gioviale insomma l'ultima persona che ti aspetteresti di trovare sulle pagine della cronaca nera dei quotidiani. Questa frase la disse una sua amica e collega quando purtroppo avvenne quello che avvenne ed effettivamente fu quello che accadde a Phil Hartman qualcosa che sconvolse l'intero sistema televisivo e cinematografico di Hollywood perché nessuno si sarebbe mai aspettato qualcosa del genere. Phil Hartman si sposò tre volte nella sua vita ma fu il terzo matrimonio quello più complicato perché si era sposato con Bryn Omdahl un'attrice poco conosciuta che soffriva di dipendenza dall'alcol e da sostanze stupefacenti. Non solo la Omdahl soffriva anche di una condizione psicologica piuttosto grave che la portava ad invidiare il marito per via del suo straordinario successo. Bisogna anche pensare che verso la fine degli anni 90 Phil Hartman stava vivendo un periodo di popolarità estrema. Il pubblico del Saturday Night Live lo amava per via della sua comicità sferzante ma che non superava mai troppo il limite. E chi seguiva Sidoventi Simpson trovava irresistibili i personaggi di Troy McClure e di Lionel Hutz. E questo stava letteralmente facendo impazzire Bryn Omdahl che stava cercando di sfondare come attrice e qualcosa effettivamente era anche riuscita a fare però purtroppo non riusciva ad arrivare dove avrebbe voluto. E il successo del marito la faceva sentire da meno, si sentiva come oscurata. Quando invece pare che Phil Hartman non abbia mai avuto nessuna intenzione di oscurarla oppure di farla sentire meno utile, meno brava rispetto a lui. Anche perché come abbiamo detto era una persona fondamentalmente molto buona e affabile. Secondo le testimonianze dei vicini di casa successivi a ciò che accadde pare che la coppia litigasse molto spesso e in maniera piuttosto feroce. Infatti dall'abitazione non era insolito sentire provenire grida e rumori di oggetti che si rompevano. E queste litigate violente avvenivano molto spesso di fronte agli occhi attoniti dei due figli di Bryn Omdahl e di Phil Hartman. Ovvero Sean che all'epoca aveva nove anni e la piccola Brighen Anika che aveva appena sei anni. E fu proprio un litigio riguardante Brighen Anika a innescare la catena di eventi che portarono alla violenza di quel fatidico 28 maggio 1998. Quel giorno Phil Hartman e Bryn Omdahl litigarono in maniera più violenta del solito. Perché a quanto pare la donna sotto l'effetto di alcolici e di sostanze stupefacenti picchiò la piccola Brighen Anika senza nessun motivo. Lei stava facendo i capricci e la Omdahl reagì in maniera decisamente violenta. Hartman non ci vide più e quindi le diede l'ultimatum. E le disse che o sarebbe andata in riabilitazione per cercare di smettere di abusare di alcol e di sostanze stupefacenti oppure l'avrebbe sbattuta fuori di casa. Bisogna anche capire che Phil Hartman aveva provato più volte a mandare la moglie in riabilitazione ma senza successo. E quella relazione tossica lo stava distruggendo e soprattutto non poteva accettare il fatto che a pagare le conseguenze fossero il piccolo Sean e la piccola Brighen Anika. Che erano assolutamente innocenti e non si meritavano le angherie di una madre drogata e perennemente ubriaca. Dalle testimonianze successive a ciò che accadde da parte degli amici e dei conoscenti di Phil Hartman lui amava veramente Brin Omdahl e quel giorno era esploso perché la situazione lo aveva portato al limite. Lui era una persona che cercava sempre di aiutare il prossimo e tentò in ogni modo di aiutare la terza moglie ma questa non sembrava volersi far aiutare anzi dava la colpa al marito della sua situazione per via del suo successo. Del fatto che le tarpasse leali che non volesse che lei diventasse famosa quanto lui tutte accuse naturalmente ingiustificate e fasulle a cui però lei complice anche la sua delicata situazione mentale credeva fermamente. La Omdahl dopo la minaccia del marito se ne andò di casa e poi uscì a cena con un produttore di cui doveva discutere probabilmente di un ruolo che le era stato promesso insomma lei cercava stoicamente di andare avanti con una carriera che si ostinava a non decollare. E sembrava che quella fosse solo un'altra lite come tante forse più feroce rispetto al solito ma mai Hartman avrebbe pensato che sarebbe accaduto ciò che poi accadde in seguito. Quella notte intorno alle tre Bryn Omdahl tornò a casa completamente ubriaca e aveva anche sniffato della cocaina quindi era in stato totale di alterazione. Salì le scale entrò nella stanza da letto dove il marito stava dormendo già da qualche ora e senza neanche dargli il tempo di capire cosa stesse accadendo estrasse dalla borsetta una pistola e gli sparò tre colpi alla testa e al collo uccidendolo all'istante. Bryn Omdahl non era propriamente conscia di quello che aveva fatto e iniziava a essere colta da una certa ansia quindi uscì dalla casa dove aveva appena ammazzato il marito e si recò a casa dell'amico Ron Douglas. Lì confessò quello che aveva fatto e fu in quel preciso istante che davvero si rese conto che quello che stava dicendo era accaduto nella realtà quindi poco dopo questa confessione svenne. L'amico la fece rinvenire le chiese di ripetere quello che gli aveva appena raccontato perché sapeva quanto lei fosse incline all'abuso di alcol e di droghe e quindi pensava o meglio forse sperava che quanto gli aveva raccontato fosse frutto di un momento in cui era particolarmente alterata e che avesse solo immaginato di fare una cosa del genere. Ron Douglas e Bryn Omdahl quindi si recarono presso la casa dell'attrice e dell'attore perché Ron voleva verificare che quanto Bryn gli aveva raccontato corrispondesse alla verità. Quindi entrarono in casa Ron salì le scale aprì la porta della camera da letto dove c'era l'attore e lo trovò effettivamente morto nel suo letto in un lago di sangue. Quindi ulteriormente sconvolto Ron Douglas chiamò il 911 e fu in quel momento che la mente di Bryn Omdahl si aprì totalmente alla piena consapevolezza. Nel momento in cui uccise Phil Hartman Bryn Omdahl chiaramente non era in sé. Poi quando era andato a casa di Ron Douglas e aveva raccontato quello che aveva fatto aveva iniziato a sentire una certa consapevolezza delle sue azioni ma ancora era sotto shock e sconvolta. Quando però si trovò sul luogo del delitto con Ron Douglas che disperato chiamava il 911 il suo cervello ebbe come una sorta di illuminazione e capì pienamente quello che aveva appena fatto. Aveva ucciso suo marito in seguito ad una litigata in cui aveva aggredito la figlia di sei anni. A quel punto Bryn Omdahl non potè reggere il peso delle sue azioni e quindi si chiuse in una stanza al piano di sopra, estrasse la pistola con cui aveva ucciso il marito poco prima, se la mise in bocca e sparò un colpo che le fu immediatamente fatale. Un dettaglio particolarmente inquietante e che forse vi farà accendere una lampadina è il fatto che sul comodino dell'attore, da quello che viene riportato, c'era una certa sceneggiatura. Come sapete il primo episodio di questa rubrica riguardava la cosiddetta maledizione di Atuk, ovvero un film il cui copione pareva essere maledetto perché tutti gli attori che accettarono di interpretare Atuk, il protagonista della pellicola e che ricevettero il copione, poi morirono in circostanze differenti. Uno di questi era proprio Phil Hartman. Per la precisione fu l'ultimo attore a cui venne offerto il ruolo di Atuk e che peraltro accettò perché dopo questa faccenda veramente terrificante, la produzione abbandonò completamente l'idea di portare avanti quel progetto. In seguito a quello che accadde i figli della coppia, Sean e Brighananica, vennero adottati dalla zia e a soffrire particolarmente di ciò che accadde fu il fratello di Phil Hartman che rimase particolarmente sconvolto dalla vicenda, anche perché mai si sarebbe aspettato che quella brava persona di suo fratello sarebbe finito ucciso all'età di soli 50 anni dalla terza moglie che era in stato di totale alterazione per via dell'abuso di alcol e di droghe. La polizia interrogò anche Christine Sander che era la produttrice con cui Brin Omdal era uscita a cena la sera in cui aveva reticato con il marito e che poi sarebbe diventata la notte in cui lo avrebbe ucciso e la donna disse che Brin Omdal sembrava serena, non sembrava una persona che aveva in mente di uccidere il marito. Fu probabilmente qualcosa che lei fece in un raptus di rabbia, in un momento in cui non poteva sopportare l'idea che il marito volesse lasciarla se lei non si fosse ripulita. Quindi si tratta di una vicenda assolutamente terribile e che aveva anche delle conseguenze per quanto riguarda lo show business. Al di là dello sconvolgimento che investì Hollywood e il sistema televisivo statunitense, ci furono proprio delle conseguenze pratiche. Ad esempio Matt Groening decise di non far più comparire nei Simpsons tanto Troy McClure quanto l'avvocato Lionel Hutz. Di solito quando un voice actor muore, muore anche il suo personaggio. Basti pensare, sempre pensando ai Simpsons, alla maestra Edna Krabapal. Qualche anno fa morì la voice actress e il personaggio venne fatto morire a sua volta in una puntata. Quando morì la madre di Howard Wolowitz in The Big Bang Theory fu perché l'attrice era purtroppo morta e quindi anche il personaggio subì la stessa sorte. Siccome però qui si trattava di una morte violenta e di un delitto inimmaginabile, Groening decise che i personaggi non sarebbero più comparsi. E tra l'altro Hartman avrebbe dovuto dare la voce in lingua originale a Zabranigan, personaggio di Futurama. Ovviamente non poteva farlo. E come omaggio il personaggio principale venne chiamato Philip, cioè Philip J. Fry, in onore proprio di Phil Hartman. Per cui si tratta di una storia veramente orrenda e io ricordo quando accadde, ero piccolo, al telegiornale stavano dicendo di questa cosa, ma non capì le effettive implicazioni di quello che accadde. Poi qualche anno dopo mi capitò la notizia sottomano, ormai una notizia vecchia di anni, ma mi capitò sottomano e uni i puntini. Capì come mai non si vedevano più nei Simpsons, Troy McClure e Lionel Hatz e capì anche il senso di quello che avevo sentito quando ero troppo piccolo per comprendere bene cosa fosse successo al telegiornale. Quella di Phil Hartman è probabilmente una delle storie più tragiche dell'ambiente cinematografico. Ce ne sono tante e ci sono tanti misteri sicuramente affascinanti, ma ogni volta che io sento parlare o parlo di quello che accadde a Phil Hartman mi si stringe il cuore proprio perché ha fatto una fine che veramente non si sarebbe mai meritato. Nessuno si meriterebbe qualcosa del genere, per carità. Però lui era ben voluto da tutti, era buono, bravo, aveva cercato in ogni modo di aiutare la moglie e quando perse il controllo e la pazienza fu perché la moglie aveva iniziato ad essere particolarmente aggressiva con i figli, per cui doveva in quanto padre fare qualcosa per proteggerli. Quindi è una storia che lascia sempre con l'amaro in bocca, ma vi invito a scrivere cosa ne pensate voi e se conoscevate già questa vicenda. E se non la conoscevate, fatemi sapere quali sono le sensazioni che avete provato nel sentirla. Quindi questa puntata di V-Crime finisce qui, io vi do appuntamento al prossimo movieblog, vi abbraccio, vi ringrazio infinitamente, viene di seguito fin qui e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.